L'intento è quello di valorizzare e riqualificare le numerose aree verdi oggi inutilizzate o sottutilizzate all'interno dei vari siti. Il Parco archeologico di Pompei lancia attraverso un avviso pubblico due progetti da realizzare mediante l'attivazione di una forma speciale di partenariato, azienda agricola Pompei e Orti Plini, l'orto didattico di Plinio. Di fatto il Parco archeologico di Pompei comprende, oltre alle aree archeologiche, vaste zone di verde fatte di appezzamenti agricoli, produttivi o dismessi, di aree attrezzate e di edifici rurali in abbandono. Queste aree possono diventare un motore di sviluppo per una nuova fruizione ampliata del parco e renderlo energicamente autosufficiente e potenziarlo come presidio della biodiversità all'avanzare dell'inurbamento. Il turismo culturale e rurale indotto da una gestione innovativa delle aree verdi, iscritto in una nota del Parco archeologico di Pompei, inoltre può generare non solo un'economia etica e sostenibile, aperta verso il territorio circostante, ma anche rappresentare un valido strumento di tutela del patrimonio archeologico, grazie al progressivo alleggerimento del carico antropico e dell'impatto turistico. L'obiettivo è quindi quello di tutelare la biodiversità attraverso la rigenerazione agricola del territorio come elemento strategico della manutenzione ambientale e fare educazione ambientale, attraverso una scelta accurata delle specie coltivate e riprodotte. La gestione parternariale si occuperà della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli. Tanti macrosettori ed azioni di cui si comporrà l'azienda agricola Pompei, oliovicolo, vitivinicolo, floro vivaistico, frutticolo, cerealicolo, apicoltura, boschivo faunistico, pascolo, compostaggio scientifico vivaistico, ma soprattutto sociale e didattico. Sia a Pompei, sia alla Villa di Stabia, a Cassella Mare di Stabia, a Villa Regina Boscoreale, a Longola Poggio Marino, al Real Polverificio Borbonico di Scafati, saranno creati centri didattici con microorti sinergici. Il progetto Orto Plini, l'orto didattico di Plinio, basato sulla coltivazione dell'orto e del giardino utilitaristico.